Buonasera, buonanotte, buongiorno. Oggi sentiamo questo Vangelo sulla perseveranza. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime, cioè la vostra vita. Perseverare deriva da due parole greche, mettere sotto, rimanere sotto. E' quell'azione, diciamo così, del seme che rimane sottoterra per portare frutto. Allora la storia, con le sue brutalità, con le sue fatiche, con le sue persecuzioni, è comunque il luogo dove noi possiamo portare frutto. Allora questa generatività, come dicono oggi i sociologi, si deve accompagnare anche in questo tempo, esattamente come speranza. La speranza è che tutto quello che noi viviamo possa davvero aiutarci a portare una grande vita, una grande linfa vitale alla nostra esistenza personale, ma anche alla storia di tutti. Buonanotte, buona giornata.